La gestione vi dovete togliere, non sanno gestire! La proposta mia è la diversa, la proposta è questa, le vostre intenzioni come proposta dell'applicazione della legge che è ancora in essere, la 26, di dare la gestione come è previsto per legge. L'abbiamo messo nei verbali che ho incontrato Evo Anghiere. Sono cinque anni, sono sette mesi da stoccarlo, sono tre mesi che ho accostato questa tecnica per cercare di dare una mano. L'invenzione della proposta è almeno di attivarsi per il proseguimento della legge 26, che tutti i dipendenti, il premento dei controlli, in prima parte, sono stati 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 e partiamo, perché non ci ha distacco. Addirittura di assumere il personale attraverso l'espletamento di una short list, che è una priorità. Ma non abbiamo bisogno di fare una short list? No, 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 no. Noi ci portiamo le convenzioni ai lavoratori, come è previsto per la 26. E guardate, la 26 questo provvede, servizio ai lavoratori. La 26 è stata completamente disapplicata in questi... Ma in essere però, la legge dello Stato è in essere. Un carito, allora, questa è applica a macchina. Applica a macchina, cioè noi dobbiamo leggere la parte nostra, il metodo di rapizio, ma però corona contigia, ma non voglio fare la politica, non voglio dare la corona. Guardate, questo è il buon futuro, non è l'immediato, è solo la nostra... Eh, i soldi! E si vanno a trovare. E so, la provincia ci ha dato una cosa, e perché non ci abbia dato una cosa, i soldi ci ha dato una cosa, la provincia ci ha dato una provincia. Non ci ha dato niente. Non ci ha dato niente. I bilanci sono autonomi. Non fate conclusione. Non fate conclusione. Un commissario liquidatore è stato dato mandato con una missione ben precisa. Ma no, no, ma non... Non ti smetti, non parlo, non parlo. Non ti smetti, non parlo. Non parlo, non mi smetti il soldi. Non mi sapevo capire tutto. Non è proprio per i soldi. È un lavoratore, è un lavoro. È completo. Allora, lui ci passa soltanto. Allora, lui ci passa soltanto. Allora, lui ci passa soltanto, perché io voglio pure i soldi. Mi voglio solo il chiacchio. Non mi diamo. No, non ti sento. Allora, vai i segni per lì, a città. Questi fanno l'assemblea adesso, quando riguarda il problema dell'Ucisco. da questo si è partito per un incontro a quello che sono le loro determinazioni siamo rimasti con una data fissa dopo il 9 luglio vogliamo tutta la situazione economica e finanziaria per vedere ma noi non ci siamo in questa materia per i soldi la gestione ma la saggezza la gestione la gestione la gestione la potenza quella li dovete togliere e ho capito ma la gestione l'ho data dopo o fa un commissario liquidatore o fa un gestore ma nemmeno io esprito il mio pensiero perché non riesco a gestire i miei chiedono questo i miei chiedono questo i miei chiedono questo ma è una frattura che sta percettando perché non lo applicano non lo applicano a due ore allora come mamma fa ma avessi salta perché e' una frattura no si ci ha fatto il tono o pacifico o l'indiano se ne deve andare come gestione la gestione la dovete togliere perché non è voluta la parola perché non gestisce bene i miei chiedono questo non ci ha fatto sono i miei chiedono sono i miei non neетр non si fa bene La gestione della potere toglierà, voi siete, la gestione toglierà perché non vi lascio internapprire con i comuni. La gestione della potere toglierà, voi siete, la gestione della potere toglierà, voi siete, la gestione della potere toglierà. La gestione della potere toglierà, voi siete, la gestione della potere toglierà.